Questa macchina è multata, questa qui è multata pure questa, questa ha due multe, una e due. Due multe, questa si è salvata, questa è multata, questa è multata pure questa, multata anche questa, questa è multata, questa è salva, questa qui. Ce n'ha due, una, questa qui è multata pure questa qui, questa nulla, questa sembra ne abbia due, altra multina, altra multa. Insomma, una è catacombe, altra multa anche qui, ha visto quante multe? È giusto che le diano, sì? Ecco qua, quella c'era più di una anche, anche il furgone è multato pure questo, c'è ancora anche lì, anche quella di fondo è multata. Credo sia un paio di giorni che è entrato in vigore il divieto di sosta lungo l'area recitata della zona dei saloni. Erano stati messi degli avvisi, speriamo però che chi ha parcheggiato l'auto, magari non torni fra 30 giorni o 60 giorni, avrebbe una cara e salata sorpresa. Grazie. Grazie.